Grazie Candidati e qualche sostenitore, prevalentemente candidati Sostenitori scelti tra chi poi? Sostenitori scelti tra i candidati, adesso non le so dire bene tra chi? Società civile, imprenditori Evidentemente società civile, imprenditori Cine elettorale? No, no Come no? Forza Italia, la spilletta Buonasera, una cena elettorale per i candidati? Sì, è chiaro Ciao Veronica, ciao E il Presidente, a chi si pensa? Sottotono non direi, c'è un distacco dei cittadini alla politica, sicuramente ci sarà un grosso astensionismo Ma credo che stiamo spiegando bene i temi di questa campagna elettorale C'è qualcuno che stasera darà un contributo economico al partito per la campagna? Lo so, noi siamo qui Se ci sarà, lo daremo Antipasto di mare Mozzarella di bufola Pizza napoletana Pastiera E babbà Quanto costa? Questo non lo so Ma che piatto che ha scelto Presidente? I suoi emissari probabilmente Però è una pizzata più che altro Non ci sono primi piatti, pesce Ma non è un sacco? Quanto costa? Eh, ma io penso intorno alle 30 euro a persona Ma cosa? No, ma è una pizzata Altrimenti se non volevo rispondere non mi interessava proprio La margherita come pizza? Sì La pastiera e il babbà Sì